Bentrovati nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie La Promessa, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. La vita al palazzo dei Luyan è stata recentemente sconvolta da incredibili rivelazioni e torbi di avvenimenti. Manuel, l'erede della prestigiosa famiglia, ha finalmente deciso di confessare la sua relazione segreta con Iana, una giovane e determinata serva del palazzo. Questa confessione ha scatenato il caos tra i nobili corridoi, poiché il marchese e la marchesa, i genitori di Manuel, sono rimasti scioccati al pensiero che il loro figlio abbia intenzione di sposare una domestica. Nonostante le tradizioni e le rigide convinzioni sociali, Manuel rimane fermamente deciso a non rinunciare al suo amore per Iana. Ma il dramma non finisce qui. L'arrivo del sergente Burdina al palazzo con un mandato d'arresto contro Manuel per l'omicidio di Gregorio Castiglio aggiunge ulteriore tensione alla già complessa situazione. Manuel proclama la sua innocenza, ma è comunque costretto a subire l'onta della reclusione. Nel frattempo, la famiglia Luyan si mobilita per liberare Manuel. Tra coloro che lo visitano in carcere, troviamo le figure di Romulo e Pia, mentre viene studiata ogni possibile via legale per risolvere la faccenda. Parallelamente, Iana affronta le sue difficoltà. Il marchese Cruz cerca di allontanarla dal palazzo, offrendole del denaro affinché non vi faccia mai più ritorno. La sua offerta viene rifiutata dalla giovane condignità, e Iana, ormai decisa a non lasciarsi sopraffare, restituisce sdegnosamente alla marchesa una borsa piena di soldi trovata nella sua stanza. L'ostinazione dei marchesi nei confronti di Iana provoca una reazione inaspettata. Lei, stanca delle pressioni e delle ingiustizie, si ribella e affronta la marchesa con un coraggio mai mostrato prima. La decisione del marchese di allontanare Iana dal palazzo sembra inevitabile, ma Iana non intende lasciare il suo posto così facilmente. Con Manuel ancora in prigione e gli sforzi per liberarlo che sembrano vani, Romulo prende in mano la situazione e, con un'improvvisa partenza, confonde tutti, dai signori al servizio, lasciando dietro di sé una scia di domande senza risposta. Riuscirà Manuel a dimostrare la sua innocenza? Gli ostacoli posti dalla famiglia Luian riusciranno a mantenere i due innamorati separati? La determinazione di Iana sarà sufficiente a sfidare le convenzioni sociali e rivendicare il suo amore? La storia d'amore segreta tra Manuel e Iana si snoda tra misteri e conflitti, promettendo ulteriori colpi di scena. Grazie. 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 Grazie.